Non abbiate freddo! Si chiama come tu lavori, una scena telefonata. Si dice così tecnicamente, cosa vuol dire? E le posizioni dovete rispettare. E che delle volte si sceglie e non vengono. Il cerchio non è un'opinione, è tondo per gli australiani, è tondo per i napoletani, è tondo per i romagnoli. Ricordati, quando rientri alla fine come fantasma. Quindi, io ho trovato un grande per loro. Un 특히! Così lui! E finisce la musica! Ilforza, ilforza! Go! Tu accendi Perché così io ho tre strati di roba sotto 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 io ho tre strati di roba sotto